Nel video di oggi proveremo ad insidiare qualche cefalopode nella bellissima città di Taranto. Iniziamo questa sessione di pesca in una zona maggiormente conosciuta per la caccia delle grandi orate. Ma non solo, in questo spot abbiamo la possibilità di insidiare cefalopodi, pesci serra, barracuda e molte altre specie. La zona del ponte girevole risulta essere un ottimo spot di pesca per via dell'innesto tra il mar grande ed il mar piccolo. Nelle stagioni più calde, grandi branchi di pesci migrano all'interno del mar piccolo per cibarsi, attirati dai numerosi allevamenti di mitili. I mitili che tra l'altro sono il fiore all'occhiello di questa bellissima città. Iniziamo pescando in questo punto poiché è presente un fondale sabbioso misto a fango in cui spesso stazionano belle seppie. In queste zone preferiamo piombare subito la totanara, in quanto il fondale ha una profondità di circa 10 metri e vogliamo arrivare il prima possibile nella zona di pesca. Usiamo sempre lo stesso metodo delle ampie cercate per essere sicuri che il nostro edging non passi inosservato. Dopo due o tre lanci ci spostiamo verso il centro del canale navigabile. In questa zona è difficile pescare ad edging senza perdere le totanare, in quanto si possono verificare numerosi incagli. Dopo aver sondato bene la banchina senza successo decidiamo di spostarci dal lato superiore. Ci fermiamo dalla parte del lungomare per poi raggiungere a piedi lo spot interessato. invito chi non ha mai visitato questa splendida città a venirci al più presto. Taranto, oltre ad essere una città storica, ha la peculiarità di essere bagnata da due mari, il Mar Ionio e il misterioso e affascinante Mar Piccolo. Adesso proveremo a pescare ad edging posizionandoci di fronte al castello ragonese. Sicuramente non è una normale pesca ad edging, in quanto siamo sollevati diversi metri dal livello del mare. Quindi dovremo fare un po' di pratica prima di raggiungere i risultati sperati. Come di consueto piombiamo la totanara per raggiungere il fondale velocemente. Quindi facciamo affondare e aspettiamo qualche secondo. Per effettuare questo tipo di pesca il nostro consiglio è di usare una canna non proprio light, in quanto dovrà sostenere il peso delleggi, del piombo e di un eventuale preda appeso morto. Se ti piacciono i video di pesca in mare, lascia un like con un semplice gesto, puoi davvero essere di grande aiuto per creare contenuti come questo. Nel recuperare dobbiamo essere decisi, altrimenti rischiamo di incagliare data l'altezza e la poca comodità. La pesca ad edging da questa posizione è poco usuale data la scomodità, ma non è assolutamente da sottovalutare. ci spostiamo di qualche metro e proviamo ancora. Stiamo pescando con una totanara da 3 con 15 grammi di piombo. Se ne abbiamo la possibilità usiamo anche qui un'esca economica per via del fondale difficile e delle forti correnti laterali. Proviamo ancora senza scoraggiarci, anche se in questa zona se sono presenti i cefalopodi non esitano ad attaccare. Resta con noi fino alla fine per scoprire quello che è successo. Dopo qualche minuto di attesa recuperiamo. Quando siamo in prossimità della banchina facciamo compiere un saltello alla totanara per poterla recuperare correttamente. Un fattore molto importante per la pesca ad edging è capire quando la totanara tocca il fondale. Perché è proprio in quel momento che il nostro edgy entra realmente in pesca. più aumenta la profondità del fondale è maggiore la difficoltà nel percepire che il nostro edgy sia appoggiato sul fondo. In questo caso essendo diversi metri sollevati dal livello del mare ci aiuteremo osservando la lenza in bando dopo aver lanciato. Quando la nostra esca toccherà il fondale vedremo la lenza in bando cambiare direzione spostata dal vento. Ad un certo punto sento una leggera trazione e provo a ferrare. In un primo momento penso ad un polpo ma purtroppo era solo un incaglio. Fortunatamente per merito della nostra montatura rimediamo spezzando solo il piombetto a perdere. Vuoi imparare a pescare i cefalopodi senza farli soffrire? Guarda il video qua in alto. Proviamo ad insistere con qualche altro lancio ma purtroppo come i precedenti non riscontriamo successo. Ma dato che la nostra regola è non mollare mai finché non si ottiene il risultato sperato decidiamo di ritornare sul medesimo spot nelle ore buie. Vediamo insieme com'è andata. Lanciamo con lo stesso assetto di pesca usato in precedenza. Noi di Pesca in Mare consigliamo a chiunque voglia pescare le seppie in questo luogo di prestare attenzione a non sporcare aiutando così a preservare la bellezza di questa città e ci dissociamo di conseguenza da ogni atto di vandalismo. Dopo qualche istante sentiamo un attacco di un cefalopode e diamo una buona ferrata con la speranza di portare la preda al sicuro. Adesso l'ultima difficoltà è scavalcare la banchina e lo facciamo con la massima delicatezza affinché non si stanchi. Ci mettiamo un po' data la lunga distanza ma alla fine eccola qui la nostra seppia. Se ti è piaciuta questa avventura iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le news su tutti i contenuti. Ci vediamo presto su Pesca in Mare.